Musica 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 Diverse squadre dei vigili del fuoco di Brea, Volpiano, Castellamonte, nonché i bi stanno continuando ad operare da questa mattina per spendere gli incendi boschivi che stanno imperversando in località formiero di Ponte Canavese. Sul posto sono intervenuti anche l'elicottero e Canader. L'incendio era divampato ieri nel tardo pomeriggio. Sembrava spento ma questa mattina presto i boschi hanno ricominciato a bruciare. I mezze aerei sono intervenuti per contribuire a bloccare le fiamme che si stavano pericolosamente avvicinando le case delle borgate. L'incendio è ancora più steso di ieri e visibile dal ponte vecchio di Quornier, da Campora e della 460 per Celesole. L'incendio è ancora più stessa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.